...trade vicine. Benvenuti alla 45esima edizione del Palio dei Castelli della città di Castiglione Olona. Bentrovati, grazie alla giornata conclusiva della 45esima edizione del nostro palio. Quest'oggi, come accade da ormai 45 anni, faremo un salto indietro nel tempo, nel passato, per rivivere la magia e lo splendore di un'epoca lontana, il rinascimento italiano, con i suoi usi, i suoi costumi, i suoi personaggi storici, i suoi giochi. Ed è per noi una grande emozione essere qui quest'oggi, anzitutto perché il nostro palio torna a rivivere dopo due anni di pausa forzata. Ma ancora di più perché questo 2022 è per Castiglione Olona un anno importantissimo. Esattamente 600 anni fa iniziamo la costruzione della collegiata e intorno ad essa l'intero d'oro. E ora siamo pronti per iniziare questo strepitoso comenezzo al Palio dei Castelli, vero Elisabetta? Sì, stiamo sentendo già il ruolo dei tattori del gruppo degli sbaglieratori di Alba, Voto e San Lorenzo, che sono arrivati ormai da tantissimi anni e che da tantissimi anni alliedano questa piazza con i loro trapici a parte. Li sentiamo, li vediamo arrivare e avvidiamo il corteo dei nostri sbaglieratori, seguito poi dal gruppo dei musici e poi dal gruppo degli sbaglieratori. Ma non solo, vedremo spinare anche dame, cavalieri, cari, vestibili e zullari. Signore e signori, grazie alla loro maestria e al loro talento, da più di trent'anni colorano quei loro smalti bianchi e blu le più belle piazze d'Italia e di Orone. Accogliamo un grande applauso agli sbaglieratori e i musici della città di Alba, Voto e San Lorenzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.